La Croce Rossa Il mio chirurgo, assistito da due infermiere, visita e cura gratuitamente animali di ogni specie. Spesse volte il padrone appare più in apprensione del malato stesso. Non farà del male quel signore lì agli uccelletti del maschietto? Micio non ha paura, sa che l'hanno portato solo a far l'attore. Sta benone lui. E' a rumore il mondo dello zoo del Bronx. E' arrivata una coppia di nuovi ospiti, marito e moglie un po' strambi. Tutti corrono a vedere, per prima i bambini. Sono due ornitorinchi e si trovano soltanto in Australia. Hanno l'aspetto di una lontra ma il muso termina con un becco d'anatra. Sembrano avere zampe normali e invece le conclude una membrana da palmipede. Sono animali di terra ma guazzano nell'acqua. Sono mammiferi ma la femmina depone le uova e poi allatta i piccoli. L'ornitorinco è indubbiamente il più bastian contrario delle bestie. Morto il domatore, i tre leoni di un gran circo tedesco non ne volevano un altro. La zazera bionda di Hilde Strüger si è messa di puntiglio contro le pulve criniere. E anche i leoni hanno dovuto convincersi che troppo spesso è la donna a portare i calzoni. Ma non basta. Hilde ha ammansito a tal punto le loro maestà della foresta da permettersi di prenderle in giro. E in pubblico per giunta.